Siamo con Gregori Dal Piazza che è un blogger, un collega blogger del sito del snooze.com a cui chiediamo come è presente e se è presente il vino italiano in rete, quindi in internet e se il Moscato d'Asti è presente, come è presente nel web? I vini italiani sono presenti certamente, qualche vini sono più presenti, qualche consorzio hanno preso una strada più attiva, Moscato d'Asti è meno presente, c'è un'opportunità adesso perché per esempio sul mio sito Moscato è il vino più cercato quasi ogni mese e non c'è c'è una voce per dare gente che cercano educazione, per spiegare cos'è Moscato d'Asti e c'è altre rette come Facebook, come Twitter, almeno io non l'ho visto Moscato d'Asti su questa rette e c'è sicuramente su Facebook una grande opportunità di creare una pagina per la promozione, non solo per il Moscato, ma per Moscato con i millennials, con le gente che usano Facebook di più e infatti almeno negli Stati Uniti adesso Facebook era il sito dei giovanotti ma adesso c'è gente come io, 45 anni, anche gente più vecchie che hanno cominciato ad usare Facebook per lo stesso motivo, da scoprire informazioni su vini, cibo, turismo, roba di genere. Senti una domanda assolutamente tecnica, meglio Facebook o meglio Twitter? Sicuramente Facebook secondo me, perché i discorsi su Twitter sono con una persona, su Facebook tu puoi parlare con milioni di persone allo stesso tempo e poi c'è più rich, più ricco ma in inglese c'è rich perché c'è foto, più colore, più attivo, per me Facebook senza dubbio. L'ultima domanda che ti faccio, matrimonio blog vino funziona? In che senso? Nel senso di il blog aiuta molto il vino? Il blog da un consorzio, un blog da un produttore? In generale? In generale devo dire no, perché il mondo del blog adesso sono pieno, pieno, c'è troppo il blog. Forse è meglio per un consorzio, un'origine perché hanno un messaggio più grande, più allargato, ma il blog solo funziona se c'è qualcuno che lavora sul blog quattro ore, per dire, quattro ore al giorno. È un vero lavoro e se tu vai nel tuo blog uno volta a settimana qualcosa di genere non funziona. Un blog è come la piazza in un paese. Tu devi andare nella piazza due volte al giorno, parlare, vedere, quella è la realtà del blog. Quindi blog sì ma bisogna lavorarci. Grazie Gregorio. Grazie a lei.